I carabinieri di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, tra cui un avvocato civilista del Foro di Torino responsabile di estorsione. In particolare nel 2010 la titolare di un'azienda agricola aveva conosciuto l'avvocato per una vicenda di carattere privato e una volta ottenuto la fiducia dal cliente, il legale le aveva chiesto, a titolo di favore personale, di fermare in suo favore una parcella di 274.000 euro, quale garanzia fittizia per finalità economiche ma chiarite. Negli anni successivi l'avvocato aveva iniziato a pretendere dalla donna la graduale restituzione di quel credito inesistente, costruito con l'inganno. Sono iniziate le minacce con la promessa che se non avesse pagato il debito l'avrebbero incendiato l'azienda agricola. In sette anni, dal 2012 al 2019, la donna ha consegnato alla banda dell'avvocato oltre 50.000 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.